ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di pubblicità oggi andiamo a pubblicizzare il canale di erics 54 pubblicità su richiesta ovviamente da parte di uno di voi vi ricordo perché ora manca solamente una persona perché eravate in due l'altra persona che mi ha chiesto la pubblicità di scrivermi qua nei commenti così che lo pubblicizzi perché ripeto ho tempo solo per oggi perché domani non potrò fare video anche se comunque già sono i video sono programmate perché domani andrò anche ovviamente con cador o poseidon e andare a cercare delle lattine per poi altri video ovviamente per quanto riguarda la serie di programma cose nuove quindi se ne parlerebbe fare del video probabilmente lunedì quindi oggi dovrebbe uscire un altro video di pubblicità che un altro canale che comunque seguo comunque ovviamente ora qua ci sarà la critica perché ovviamente rispetto a quella di ieri diciamo che la critica c'è stata ben poca ma in questo caso ci sarà perché ovviamente diciamo delle critiche ovviamente allora iniziamo subito il canale ovviamente alla copertina potrebbe essere fatto un po meglio sì voto nove e mezzo il logo per me ok non hai iscritti hai solo uno iscritto ha portato solo due video quindi attualmente c'è ben poco da dire magari forse la meglio farti pubblicità quando portare qualche video in più ci sono delle info no quindi solo due video vediamo a sto punto le vedo entrambi che c'è la intro in questo di qua ok la intro si vabbè ok diciamo è un po copiata quasi anche da truccio anche se non sto qui a dire questo perché comunque le intro si somigliano un po tutto ormai di questo tipo infatti tu ci diciamo che usava proprio questa indosimia però di una colorazione diversa tempo fa io diciamo che non uso quasi più c'è ne una che ma non penso che ne farò altre intro anche se a volte penso di farne una nuova ma vedremo questo è l'unico video che ho fatto vediamo un pochettino la copertina ma potreste aggiungere magari il numero ok vedo che non parli ok quindi scrive nei video va benissimo aspetta forse ha detto qualcosa qui ah ok mettere la musica di sottofondo anche quindi il gioco è senza audio giochi su mobile io una volta l'ho portato dead by light ho fatto una mini serie diciamo e addirittura ho fatto in due partite ho beccato facendo i video ho beccato delle persone che letteralmente erano cieche ma anche mi vedevano e vabbè andiamo molto più avanti altrimenti qui ci sono traccia bene magari critica proprio critica è difficile dare un voto proprio non so che voto no non sei no ovviamente è chiuso ok ora si allora conclusioni magari come voto diciamo che ti do otto e mezzo e piccolezze da correggere magari la copertina più che altro la copertina non so se proprio dirti di migliorarla perché ripeto anche la mia non è manco non è proprio facile farla sinceramente e magari se riesci a farla mai o ben venga quindi l'unica critica è la copertina poi di per sé magari può migliorare la copertina magari dei video sinceramente questo che ho fatto per ora magari tipo a parte metterci ovviamente l'immagine del gioco aggiungici per esempio una numerazione anche nella copertina oltre al titolo e poi diverse poi vabbè nel video del gameplay altro consiglio che ti do ma non ho niente da dire magari col fatto che non parli magari si musica di sottofondo ma potresti anche secondo me valutare di mettere direttamente al lato del gioco se puoi perché ripeto so che si può quindi o metti il lato del gioco forse è meglio sia mettere al lato del gioco ma è anche la mostrata sottofondo entrambe le cose poi ripeto fai tu penso di avere altro aggiungere voto finale direi 8 e mezzo non penso di dare un voto più basso per me va benissimo 8 e mezzo ovviamente iscrivetevi al canale di erics54 di quel che sto vedendo per ora porta solo gameplay ma penso che porterà anche dell'altro poi altri tipi di game o forse altro poi si vede ovviamente e niente quindi iscrivetevi al canale di erics54 e ricordo che quello che ancora deve fare è che mi ha fatto la richiesta di scrivervi qua sotto perché non mi ricordo chi è e consiglio che vi faccio pubblicità perché se non mi scriverai entro stasera se ne parlerà lunedì fa del video e se il video è piaciuto vi lascia un mi piace e noi ci vediamo ci vediamo alla prossima ciao